Asfissia, questa la causa del decesso di Giuliana Leccese, la 75enne dipendente della provincia di Chieti in pensione, trovata senza vita dal marito sabato sera nel cimitero della città teatina davanti alla tomba di famiglia. Sono le indiscrezioni emerse al termine dell'autopsia eseguita all'ospedale Santissima annunziata dal medico legale e incaricato dalla procura il professore Cristian Dovidio. Quattro ore la durata dell'esame, completato da altre analisi che hanno escluso che la signora avesse assunto farmaci. I risultati verranno depositati entro 60 giorni. Intanto la salma è stata restituita alla famiglia, al marito, 78enne dipendente comunale in pensione, alla figlia. Hanno cercato Giuliana Leccese per ore per poi fare la tragica scoperta. La pista del gesto volontario vede sempre maggiori elementi e riscontri sul corpo. Infatti non c'erano segni di violenza dovuti a eventuali aggressioni. Anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza analizzate dai carabinieri del reparto operativo del comando di Chieti che stanno svolgendo le indagini pare non siano emerse presenze sospette. Le esecue si terranno in forma privata.